la campagna sa chi voti è finalmente arrivata a roma il nostro tour continua siamo partiti da torino passando per milano e oggi ci troviamo a roma ea napoli dove andiamo a chiedere ai candidati sindaco in lizza per le prossime amministrative del 5 giugno di rendere trasparenti le loro candidature quasi 20 mila cittadini hanno già firmato e sottoscritto la nostra campagna e più di 60 candidati hanno caricato i propri dati sul nostro sito la campagna continua condividetela firmatela e soprattutto ricorda vota solo se sai chi voti